Eeeh, a Drift. Dovremo... Va bene. Non lo faccio più. Dovremo andare dal terzo coso. No, non serve l'ossigeno, dai. Dal terzo robo delle comunicazioni. Ok. Eeeh. Poi basta. Non sapere. Molto bene. Sto per morire, l'ossigeno. Ho preso una serie di scelte sbagliate. Non ho la minima intenzione di arrivare fino a quella stazione. Dai. Ti prego. Non ti scontai, non ti scontai. Ok. Ok. Non ti scontai. Bene. A occhio. Si è schiantato. Che vuole di riuscire all'alloween? Non ti scontai, non ti scontai, non ti scontai. Anzi. Ma cosa cosa, la mia madre si può старare. Che non Cassano sia così stesso. Ma sempre è stata riuscita con un mino di lavoro. Mi pentia che mi sono sempre riuscita a studiata. Aveva realizzato il suo sogno. Sono felice per lei. Meno del fatto che sia morta in un incidente che ancora non c'è stato spiegato, però sono felice per lei. Ok. Fico. Emma. Quello che temevo. Allora. Di qua. Ti prego non prendermi, ti prego non prendermi, ti prego non prendermi. Ok, ottimo. Mi ha preso il buono. Benissimo. Stavo per morire. Let's go. No, qui lo devo prendere. È che è in un posto di merda. Un attimo, un attimo. Cazzo, metà me ne ha riempito. Ok. Ma quello per l'ossigeno? Non ce n'era una in questa stanza. E non mi riferisco a... Queste. Ah, eccolo. Non lo trovavo. Sì, sto andando lì, però voglio prima... Resistemarmi. Anche se è di pochissimo. Ok. Ok. Rechiuso, va bene. Vai. Ok. Devo andare di qua Perché? Mistero Oh vabbè No, vedi che non è di qua che devo andare È di qua, già mi torno di più Ok No, non è di qua Ho capito perché mi incasino adesso Dio santo, Dio Che non si capisce, mai bene dove c***o gli aderba andare Vaffanculo, vado a riparmi l'armatura L'armatura, sì, la tuta E poi dopo decideremo il da farsi Dai Oh, c***o sono, most of us Dovrei andare a dormir Dovrei assolutamente andare a dormir Ok Ok Ok, no Non è vero Oh è Vaffanculo, è qui giù Vai non ci sei arrivato mai ok personal log, astronaut, lopez, teresa, 24, december 2036 christmas eve looking down on earth for space tonight is profound and awe-inspiring i'm watching lightning storms explode over the clear nightlights of the new republic of japan no human being has ever had this view before it's incredible how small we really are in the scope of the known universe and how lucky i am to be here at this moment we are only just beginning activating vocalist system terminal mainframe online initializing hand for eba diagnostic sequence eba thrust repair detective initialize eba thrust repair eba thrust 100% exit eba diagnostic environment ok initializing cerebrum cord diagnostic sequence cerebrum cord corrupt cerebrum cord fabrication required initiate cerebrum cord fabrication cerebrum cord fabrication complete and ok cerebrum module repair required plan for data screening activated initializing data transfer data transfer data transfer in progress data transfer complete data transfer complete data transfer complete data evaluation manufacturing and data and bar and the par six 46 anni, non vedi qua che devo andare. Oh no, è come prima. Allora? Aspetta. Mio. Ok. Qua. Benissimo. Ottiti. Qua. Encrypted internal data transmission received. Sender, Hawking, Samuel. Part of an aerospace mission director. 13, June, 2037. Commander. Your request to move Hand Force Spiritus into Beta ahead of schedule is denied. While S.O. Hudson's pre-beta contingency plan indicates success, the risk associated with an untested production increase of this magnitude is great and could endanger everything we're working for. Do not let frustration with slow-moving progress cloud your judgment and lead to poor decision-making. You must remain dedicated to our collective purpose. This is an effort to aid humanity. You are a small but important gear in a much bigger machine. Mankind above all else. Let me be perfectly clear. There is no scenario where deviating from plan is an option. Sono dovuto girare tre volte. Oh! Perché non capivo dove stessi andando. E' a little bit more. Miao... Stop in my life. Voi. 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 Attenzione. E' lì che devo andare. E' lì. Ma è qui giù. No? Muori allora. Intanto non posso fare il granché altro. Ah! E' la nostra avventura riprende da qui. Non so dove siamo. Non so niente. Aiuto. Spero di non aver perso nulla. Spero di non aver perso nulla. Srebrenze. E' un attimo. Sodenze новa. Srebrenze. Progredzi. Adesso. Ok Qui Potrebbe Qui Questo è quello giusto Non so cosa devo fare Ok Va bene Ti parla di mollarla Ok Adesso arriva una scimmia comina d'asta e noi muoviamo Non credo Però sarebbe stato incredibile Dai Non sono ancora privato dal rompimento di coglioni allucinante con sto gioco eh Però diciamo che ecco non mi piace più così tanto come avevo detto qualche parte fa Un po' morto E' onestamente un pelo morto Però Insomma ho anche giocato di peggio dai Sempre costante Ok Vai Voi 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 buono aspetta è un voglio d'ossigio faccio un po' vomitare ma non è giusto allora mi devo abbassare completamente ma si doveva io intorno ai lì otto va bene vomitiamo ancora un po ed eccoci qui cerebrum module evacuata, solaris system repair required for salda's EEV power system operation, locate system mainframe, fabricate cerebrum core, repair cerebrum module mission control to commander of shima, solar power and propulsion mainframes damaged and unable to communicate with hand force cerebrum manual repair required for a EEV charge operation and manual non so andiamo eccessivo no non è che lo stavo premendo per finta guardato eh, non volevo fare un cross madonna ma nessunque sta cominciando a diventare pesante perché perché sia perché si sta camminando meno nello spazio ma è molto più dentro la nave spaziale è sia perché madonna è di una pesantezza interessante undici a file ok ho sbagliato vai Sebastian grazie per ieri è stato difficile è stato difficile per me trovare il giusto ritmo a consumo alla tua guida e ai tuoi consigli sono sempre ben accetti e sono quello che ho bisogno di sentirmi dire però davvero grata per tutto quello che fai per me non so cosa farei senza di te non sempre faccio la cosa giusta ma ci provo non è facile essere al comando grazie per averlo capito e per chiedermi Alex non devi autoflagellarti per queste cose è vero a volte sei due e credi che sia meglio chiedere perdono che permesso queste qualità che possiedi non sempre rendono tutti felici ma fanno parte di te sono ammievoli cerca di non buttarti giù abbiamo tutti dei difetti io ho commesso tanti tanti errori il comando non è per i deboli ma per dire adesso devi concentrati sul giovane Andrew non ci sta più mettendo il cuore in quello che facciamo la sua anima è a casa con sua figlia è quello il suo posto è a pezzi e tu puoi fare ciò che serve per farlo stare meglio so che farai la cosa giusta voto mi devo Sebastian Sebastian, grazie ancora per l'incoraggiamento visto che mi dovevo da un favore sono riuscito a far accettare la richiesta di trasferimento per me ci vorrà ancora una settimana prima di avere qualche novità da Santa Monica tutto sembra andare bene ma avrò bisogno di lui per portarci a Spiritus Beta e assumere P Equipatio se tutto va bene riuscirò a tenere duro fino a luglio onestamente credo che si sentiva sollevato e pronto ad andarsene ma non credo sia lui credi che sia meglio chiedere perdono che permesso seria della mia vita Lazio non continuo a ripeterlo fin da quando siamo piccole questa mia tendenza mi ha messo nei guai un'infinità di volte prima o poi imparare le lezioni p.s. ti trovo meglio nell'ultimo periodo e sono felice mi dispiace per Sebastian dopo sconto che siamo tutti morti perché ce l'hanno già detto quindi non lo dopo sconto ragazzi sono le tre del mattino io devo andare a dormire devo assolutamente andare a dormire va bene gentilissimo allora ahia è eccessiva vabbè non potrò sapere ci fosse anche quello oh ora ritorniamo nello spazio ok 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 Contro a Nordstar 4. Data scans indicano massive damage to Solar Power Generation Wing. Area extremely dangerous and unstable. Exposed and active power nodes confirmed. Area requires careful traversal, Commander. Over. Se avessero fatto un pelo meno pesante, un pelo, se avessero fatto parlare la protagonista. Una. Due battute ogni tanto. Manco troppo. Ma il giusto per evitare questo silenzio continuo è a tratti assordante. Perché mi vanno bene gli effetti sonori, mi vanno bene quelle due o tre note che vengono chiamate colonne sonore. No, cazzo. Minimo. Ok. 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 0 score. Ok. tra l'altro anche le storie degli equipaggi si possono essere no ragazzi pensavo ci fosse un collezionabile dice oh no perchè ho due obiettivi aspetta fermo fermo perchè devo andare da entrambe le parti pensavo di no anche le storie dell'equipaggio possono risultare interessanti meno dilatate cazzo sono trovo una nota ogni morte di papa e non entro non provo niente per loro va bene io vado a letto la prossima parte la prossima volta